Questa Italia 5 è con voi, lì dimenticato gli anni 80, tutto quello che li riguarda con il meglio di un'offizio, adesso una breve pausa, tra poco è un'ottanta mania, un'ottanta. 4 luglio 2009, Coparappa, Bollon, Combina, Guai. Discesa verso Bagno in Romagna da Mandrioli. 9? No! E racconteremo insieme proprio il vostro percorso musicale, mentre quello di Dente è un altro percorso. Abbiamo appena ascoltato pochi giorni dalla morte Michael Jackson, cascate che scende da tutte le parti. E questo soprannome è rimasto anche nell'età adulta e soprattutto in questa esperienza artistica. Lucio Battisti è il suo paro, naturalmente, e nei suoni devo dire che... Mangi di domancia! Mangi all'eterme! L'ideale che è l'ideale! Questa è una canzone semplicissima, composta da chitarra, con pochi accordi, ma a volte per costruire una canzone efficace non c'è bisogno di tanti suoni. Bastano pochi, ma giusti accordi. Tipo rello! E' qui! Infortunato! Abbiamo appena digerito un fungo a porcini fritti. Mi scattate a te. Cima va di abbrataia al camping. Ora sta diminuendo. E gli odori vi dico che sono fagnifici, eh. Sentite gli odori. Oh, c'è anche gente. Facciamo una casetta, tutta come ci va. Mettiamo lento sul pavimento. Ecco dentro. C'è un po' di schiena, ci pensiamo nel là di là, prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa a noi, le gambe dieci gradi sui testi. Bobarini. C'è Bobarini. Vieni a vivere con me. Vieni a vivere con me. Come me. Vieni a vivere con me. Che te te te. Come te. Che non ti muovi, come è possibile. Tenuta da guida, eh. Vado. Non vedi, ma che lascia a ritrati, lascia a pietro. Mangiamo tutte le scatole. Vediamo più andiamo a fare un spese di scato. Vieni a vivere con me. Vieni a vivere con me.